Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio della Soulink Rosso e Blu con Yashi Channel Buena Buena ragazzi Scorso episodio è stato fantastico abbiamo catturato due Pokémon direi magistrali e esemplari della Esatto Certo Assolutamente Prima generazione ovvero il nostro solo drago Solo drago No aspetta però non è sollincato con Si no no Con Sony Beh è sollincato con Con Kyuubi Che è inutile per adesso Provo adesso Provo poi Esatto E poi invece loro hanno trovato Donatello Il mitico Glass Toys che andiamo allenato fino al 20 Che è sollincato con questo specie di piccione Si A ungello Perché non cambiamo le coppie? Accoppiamo con la Setskunchire Zard please Viene bene Esaur Viene Esaur Viene Esaur Ah li abbiamo allevato giorno di paga Perché la raggia era meglio Si abbiamo allenato tutti i Pokémon al 20 Più o meno Io si Poi siete scarsi Non lo vedete Ci abbiamo parla di fare un cazzo E quindi direi che siamo pronti per fare il culo a Misty Però direi prima Teniamo Pozioni Beh noi abbiamo già preso Però volendo Io ne ho Ho un'iperpozione e tre pozioni Compra un po' No mi sa che Non te le fa vedere però Ah già Aspetterei che abbiamo già queste qua Allora direi che andiamo a battere gli stronzi della palestra Esatto Speriamo I votatori Io non so che metto Charizard davanti Dai facciamo i culi Noi davanti Allora abbiamo un po' a tenda Splash Sono il primo Abbiamo un po' a tenda Scontriutori Arcanine Cominciamo malissimo Allora Lui che hai già iniziato Shire Vai Di tua la tele Vai Sì proviamolo Dunque c'è il gelopugno Ragazzi Somma È fortissimo No sostituto Vai Ma come sostituto Splash Sono il primo In guardia Abbiamo un po' Che brutto Ok 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 Hora di switchare Vero un atto Perfetto Perfetto Non è un problema E ora di switchare Un bagnigio lo pugno Lo uccide Lo spunza Lo uccide proprio male Ho beccata Ma anche Ok Moltres Oddio Abbiamo trovato già i tre uccelli leggendari Della prima Potrei mettere il mio uccelli che ha bolla Però no dai Da per usare Electro Cambierei Cioè Wid con Ossomerang Mi sembra Wid 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 Ossomerang è molto forte È vero Io ce l'ho Siamo sciattato con il primo colpo Ce l'ho subito Etna Che fa malissimo Wid al 31 Lo facciamo evolvere o Aspettiamo dopo Mi Aspettiamo Lascio Ok Dodrio Attenzione Mi ricorda qualcosa Dodrio Siamo noi Attenzione La terna La terna La terna Bo terna Bo terna Bo terna Poliziotta Un solo allenato Ok io solo davanti a miste Aspetta voi Eh torna Wid Torna Wid Dopo l'ego Doppio ego Ego C'ho un grosso ego Oddio mega pugno È tornare a brutto colpo Trittato però Va di doppio ago lo shot al primo colpo Minchia Non ho sto Mew La buon gibotta Mew a buon difese C'è 100 Mew di stat Quindi Attacca ancora È buono Perfetto Puriamoci però Sì Andiamo a curare Un po' di pazienza Shine che andiamo al centro Pokémon E poi facciamo Misticanza Va bene Ecco il fatto Tu intanto Preparmi Ho sbagliato Psicologicamente Io sono preoccupato C'ho 69 di vita su Charizard Io però adesso con Misti Metterei Wid Sì Per non saperne leggere C'è la venti E passa Esatto Io metto Charizard E poi rido Cazzo duro Cazzo duro Dai Dai Stamisti Secondo me Stamisti Pronti Parliamo Fala voce di Misti Ciao Sei la voce di queste parti Vai Falla I allenatori Professionisti Sono professionisti Grancazza Stampeggio per il loro Pokémon Come tipo Quando catturi la merda Ma sono tutto Offensiva totale Adesso Vedrai che caccia a fuoco Vedrai che caccia a fuoco Metapod Metapod Grande Metapod Ozzio Geodude L'uomo di te con le otte Vai di Osobra Osobra Sì Charizard Tuono Tuonalo Madonna mia Preciso Misti Ciao Bacolgiona Oddio Rullito Il tuo raggio Ok Vuoi perdere il turno Ok Caricare Andato anche Charizard Penso di sì Sì Bella Bene Battuta Misti Ma com'è che capopalestra Nelle random lock Sono sempre più facile Vabbè cazzo Dio In bosche di merda Ti uccide Un selvatico di merda Comunque Allora Mi ha dato una MT Che contiene Conversione Vediamo noi MT11 Vediamo un po' Speriamo qualcosa di figo ragazzi Utile più che altro Dai Dai Canto Ma vaffanculo L'abbiamo appena tolto Per insegnare Sonnifero A bottega Esatto E ce la ritroviamo come MT Ma vaffanculo Continuiamo Sì Io sono già Nella casetta Eh magari La fossa di fossa Ci do qualcosa di bello Eh esatto Però beh Fossa Fossa non è male No La fossa In questa Cosa è OP Andiamo nella casetta Sì sì Vai vai Ok Andiamo a battere Team Broket Team Broket Attenzione Ehi fuori Non ti è permesso stare qui Chi io Sono un semplice spettatore Non mi credi E ti sfida Sono un semplice spettatore Spettatore di cosa Lui è un guardone Moltres Dio buono Ancora L'altro Si è trattenuto Stavo scendo il vestibio L'ho sciottato malissimo Però Ebbè Ah ma c'è weed Eh c'è weed Eh va beh Ho lasciato la con weed Poi cambiamo Fa io so Cazzo Doppiago ci piace Ma questo buonicon A doppiago Il gioco A botengo A con frana Botengo Con frana Dai cambia Metti 28 Attenzione Vi aspetto Eh dai Preciso Onesto Onesto Adale Le metti Cosa sarà? No devi darla Altima No 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 te la tieni Le metti Si parla lance Attenzione Eh buono Sparla lance Può sparare le lance Chi lo può imparare? Calcio santo È rischioso però C'ha risar di imparare Sparla lance Ragazzi Perché può beccarsi da solo 50% No no Non la imparare nessuno Non la imparare nessuno Ho detto ragazzi Abbiamo una cattura da fare qua Aspetta ma andiamo a parlare col tipo No no Ragazzi avete presente che c'è la pista ciclabile Finta pista ciclabile qua Si si Ecco sotto c'è l'erba Quindi Eh si Come di solito si trova il neo Pronti? Vai Si Aspetta ce l'abbiamo le MT Ah contro la buona D'avanti Ok Ho tre ball Ho tre ball Metto davanti uno Ok Sono uscito a scappare Eh No no Di che c'è leccata Aspetta che vado a prendere le ball Non ne ho più io Eh voi ce le abbiamo Sì è ben dodici Ah ma? Dodici Quindi prima Uno Io ne prendo tipo dieci Aspetta Ti spettiamo shy Arriva 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 Sono quasi arrivato Arriva 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 Sono nella casa? Sono uscito dalla casa No No Il santino Madonna il santino Eccala Eccala Mamma mia il saltino Eccala Ma perché non l'ho messo più in là? Fatti Ora però basta Ci siamo Ci siamo Vai Andiamo Rhaidon Figo Tentaful Tentaful No vabbè Ma porre ciò tardi Un tentativo lo farei Un tentativo Leccalo Leccalo babi Ma quella è una scata Che tifo Micah se l'ha tolto Paralizzato Un'altra leccata del nostro Un bispo che non c'era Fama di niente Fama Preciso Iniziamo Bollalo A bollalo Preso Preso Grande Raidon Al primo Al primo Al primo Raidon Poco che è fatta Poco che è fatta Poco che è fatta Poco che è fatta Io lo chiamo il duro Allora C'è il boss Nox è ill Ammasta male Il duro No ci sta Ci sta Una coppia di ill Vediamo cosa c'era Mew No Passiamo a seri Tentaful Mew Farfetched Raidon Vabbè Cioè nel senso Pokémon è abbastanza Electrod Electrod C'era Mew Ragazzi Il senso Il cazzo Poteva servire Eh cazzo Vabbè niente Vabbè basta Non c'è mica la pensione Sì c'è la pensione Vogliamo lasciarne uno in pensione No Non si lascia Niente pensione In naso Oh ragazzi Abbiamo fatto una squadra completa Cosa ci siamo fatta Oh allora Quando è che ci muore qualcuno Il duro Attenzione Agnale mosse Questo non cambia Pokémon Leccata Hypnosi Amnesia E Frana Buono Frana Frana è stabbole Andiamo Alla M&A M&A Tossina Buono Tossina E confusione No no Stiamo parlando Tentacool Questo non scambia i Pokémon È vero? Zio Zio Ai Nidoran Che è successo? No Mi chiamano male Allora Sono andato troppo veloce Ho velocezato così tanto Che sono andato già nel percorso Anzio Ah c'è la cattura lì Dai dai Andiamo Dai ma c'abbiamo il box Ma si se ne frega Tanto non siamo mai nella vita C'è non ho messo Andiamo Ok ok no ci sono Sto per la cattura Ci siamo? Un'altra cattura Sempre una novi Ragazzi la prima a che fare il box Sì grazie Pronti? Staggia dentro Staggia dentro �erfate vai Mall snot No Fuggi Fuggisci Oddio Summer Somerang Beh in realtà non vale perché se lui l'ha ucciso e lui non può ucciderci no? La regola che mi sono inventato... ma perché non fuggiamo? Perché ha fatto somerang. Ma cambia prima. Cambio mezzoguina. Che sbatti Fuggi 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 Moltres di merda! Ok, dobbiamo curarci da qualche parte. No, tiriamo assù al massimo Donatello Vediamo senza crit quando gli facevo Continua a critare Lo shoot io comunque No, continua a critare Cos'altro lo trovavamo? No, lo shoottavo, guarda Ah no, lo shoottavo Perché è super efficace, ma per quale motivo? Perché è volante Beh, è volante fuoco Brava Volante Volante Vabbè, non lo sapevo, chi è il scudo? E vabbè Challer Porca putta Vabbè Uccidio con volaraggio Stacchiamo subito Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Wade con tuono Ma Raffica è normale questa gen Ah è normale? Ma siamo seri Zio contro la shoottata male Vabbè Stacchiamo avanti Stacchiamo avanti La raggio Faccio anche io gli allenatori che me ne manca uno Anzi un paio Le da Vai 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 Ah che c'è Bonita Attenzione Questi bisogna Ski, skip Va beh Il geolo Il troppo gelo prognio E non l'ho usciso Sarà Vabbè comunque una terza evoluzione Si 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 Cosa ho fatto? Scudo acido Ed è sparito poi Esatto Che stupido Speedle Ok me ne manca solo uno Ciao bella zia Golem Gerovugno Golem che bello Vapore con gelato Porygon Come fallisce Pettata Grande Donatello Ah perché tutte le mosse Non la percentuale di missare In questo gioco Prescindere dal fatto che sia Questa è l'infamata Della random In rosso e blu Ciao zio Ok Ciao zio Ciao zio Prime Prime Confusione Perfetto C'era in qualche tempo Che ti da L'amo Vecchio Vecchio si Dove che è? Una delle case Case sopra la palestra Se non sbaglio No Allora questa tipa Minchia Di imparare Barriera No Non ci piace Barriera No 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 Si un attimo Che siamo un po' lentini qua Si Niente barriera ragazzi Starmi Ma quanto è forte Charizard È già il 26 Wid con tuo Wid con tuo Wid con il 26 Ma se lo faccio Adesso Metto il duro E vado fare Ferraro sui Moltres Il duro Quanti ce ne sono niente Blast toys Contro Blast toys Confusione Dai proviamo Mi fai le scala Le stesse mosse quindi Si non fatti Esatto Mi ha scompilato Mi ha scompilato Per questo stronzo Si ho Ho una brutta notizia da darvi Cioè Che cosa? Chi è morto? È morto il duro No Perché? Stavo allenando ma a certo punto mi sparano un gelopugno a caso Nooo Si è vera tentacool Eh ho capito Però il boss e il duro veniva una coppia bellissima Dillo sai che non Abbiamo non cattato troppi pokemon Troppi Troppi No poi Cazzo A fanculo Si ci piaceva la squadra completa Starmi con gelopugno Con che mani? È tipo W per gelopugno Quindi dovevamo abbandonare il boss Tentacool Ah ecco dove era Al fianco al centro pokemon Fianco al centro pokemon Ok Possiamo catturarne poi uno nel prossimo episodio Andiamo a depositare Tentacool Porca bontana Eh vabbè Il boss e il duro faranno un film Probabilmente Si Devo fare liberato Poi li liberemo tutti insieme dai Il boss e il duro e il cattivo Cazzo il boss Eh vabbè Pazienza Niente è andato Beh quindi direi che per oggi può bastare Si direi proprio di si Diciamo che è stato un brutto colpo però Eh vabbè dai Così è arrivato da nulla Un totale proprio Esatto Effettivamente Quindi ragazzi se il video vi è piaciuto come al solito Lasciate un bel like Scrivete Shai Infame qua sotto Perché sono un coglione Esatto E noi ci vediamo con il Settimo episodio Della Soullink su Rosso & Blu Sul loro canale Che trovate qua sotto in descrizione Rispondete alla crema domanda del giorno Che dovrete qua sotto Assolutamente E noi ci vediamo presto Ciao 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 Grazie a tutti.